Ciao das video! Ho promesso a Gini004 che avrei provato questo Baldis in Education and Learning però insomma il video era venuto fuori che non si sentiva bene la mia voce, Cosmi dava problemi e niente, quindi il video comunque l'ho provato Gini e ora passiamo invece al gioco di oggi Non so no, non so no, non so, non so Questa è quella cosa lì Rai insieme Ok Ma qui te lo muovi con le flaccette questa Ah, allora, con questo no. Chi sei tu? Ma che figlio, ma posso sentirmi i miei pensieri. Ah, se schiaccia la barra? Ma che forte! Questa è bella, sarebbe da giocare in due. Che uno tiene alcuni tasti e uno... Bellissimo! Allora, mi posso trasportare? Allora, se sta a ballare così, la barra, la giungo lì. Bello! Mi piace il concetto di gioco. Bellissimo! Bellissimo! Allora! Ok, vi prendete. Bellissimo! Bellissimo! Oh no, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ok, abbiamo provato questo bug. Ok, abbiamo provato questo bug. Grazie a tutti. Grazie a tutti.